... ... ... ... ... è la terza posizione diversivamente la 205 numero 72 è uscita a tenere la bellissima terza posizione Arlo Cavallo, quello vitro di lui e poi con i kadoni come numero 48 vestito Questo gruppo vuole ripensare di prendere la terza posizione seguita da Arnaldini, merito complicato, attenzione però che si fa aggressivo mentre Arnaldini, può ritirarsi il più possibile alla sorta nuova. È un po' diverso, forse vedete anche dal fatto che la possibilità comincia a scapondere a tutti. Alla volta che Arnaldini ha qualche problema è in E purtroppo, Lascia vita facile Affino di subito Infatti anche avvicinato Vincito a sorpassare Armandini, merivo Porto che avvicinato Porto attenzione da noi Due ruote a stretto traccio Stai caricando E ovviamente Ripartire si è preso Al patiniero Tanti tra vettorie Delle torre Troppo interna E niente da fare Posizione Come prima Per cui Nicolini Viacchi che si sa Sotto Agitavini Tanti su Vincorno Un'altra inizia Troppo Cerco Problemi tecnici Mentre di vetivo Solo 3-0 Questa piccola Trinitario Di reti Poi Spero ed eccoci all'ultimo giro attenzione, attenzione per più pronto, Verona allarga pronto per dire dalla, devo rallentare Verona è portato sull'argine e arrivo non è di grave ma è sempre meglio cercare di risolvere il problema al più tempo non è vero non è vero non è vero non è vero